Atena, via Sharon Stewart, 18 settembre 2020, traduzione marina, le vostre scelte, possono farvi fare qualsiasi cosa se riescono a convincervi che l'avete scelta, le persone non si rendono conto che ci è già stato posto il blocco a causa della normalità di essere in casa, guardate la tv, il computer, la xbox, Netflix o trascorrete del tempo sui social media, allora perché lamentarsi di essere bloccati a casa adesso, non so quante volte ho notato che poche care persone uscivano per un certo periodo di tempo, solo per andare alle loro macchine, stavate in casa perché sentivate di scegliere questo, ora che vi viene detto di restare in casa, lo fate ancora, ma potreste lamentarvi, la differenza è che non è più una vostra scelta, nessuno ha smesso di predere il sole perché, ovviamente, ci hanno detto che era un male per noi, come se, quando ero bambina, giocavamo all'aperto, abbiamo imparato a creare i nostri giochi e abbiamo usato la nostra immaginazione, ora è tutto già fatto per i bambini, poiché non produrranno una cura per il cancro, possono continuare a incolpare, per il cancro, il sole, ma in realtà, la causa del cancro è la negatività che creano nel mondo, cosa pensate che sia il voto vi stanno convincendo che l'avete scelto, che avete voce in capitolo nel sistema, non l'avete, perché, perché come al solito ci stanno mentendo, quindi, quando il partito prescelto inevitabilmente agisce, allora quelli che non hanno votato per loro possono puntare il dito contro quelli che lo hanno fatto, e incolparli per aver votato per questi truffatori, le persone sono molto manipolate e credono davvero di avere scelte in questo mondo, è incredibile vederli così fregati, cosa pensate che provocheranno le distanze sociali nelle persone, farci andare d'accordo, dobbiamo avere i nostri graffi, discussioni e disaccordi con gli altri per poter ascendere, ebbene, alcuni lo fanno, alcuni preferiscono esaminare i propri problemi con gli altri e risolverli, prima di arrivare al punto in cui hanno bisogno di combattere con qualcuno per risolverli, in generale, molte persone hanno l'abitudine di ignorare i propri pensieri interiori, abbastanza da essere attratti da una situazione in cui devono perdere questa abitudine per risolvere il loro problema con un'altra persona, quindi dobbiamo interagire gli uni con gli altri, e le distanze sociali non lo consentono, vedete come stanno cercando di fermare la nostra ascensione, la nostra ascensione è la loro morte, benvenga, grazie Atena, ci sono diversi livelli di lavoro nella vita, uno, fondamentalmente inconsapevole dei propri sentimenti, ha bisogno di essere attratto dagli altri per interagire e scoprire come ci si sente riguardo agli altri e a se stesso, risolve vecchi dilemmi e rimuove i blocchi energetici in questo modo, usa spesso la proiezione e la colpa e ha una mentalità da vittima, due, fa il proprio lavoro interiore come un atto di amore per se stesso, evita di litigare con gli altri e avere disaccordi, perché è disposto a capire come si sente riguardo ai problemi e li risolve internamente, prima che diventino problemi esternalizzati, può ammettere quando ha torto o potrebbe sopportare di imparare di più, non lo vede come una vergogna, 3, utilizza i propri pensieri per creare una realtà priva di problemi e problematiche, l'unico problema è mantenere alta la frequenza di vibrazione ogni giorno, questo aggira qualsiasi problema con gli altri, gli altri possono dire e fare quello che vogliono, ma non è influenzato dalla loro energia, questa persona è sovrana, un pensatore indipendente, questa persona capisce che il suo pensiero è diverso dagli altri e accetta questo fatto, sa di essere diverso e adora la propria differenza, si sente più libero degli altri, questa persona è molto consapevole di quando qualcuno sta cercando di controllarlo o manipolarlo, e non permette a questo di cambiare il modo in cui risponde, questa persona è responsabile e ha il controllo della propria vita, per quanto riguarda il problema delle mascherine, le persone le indossano perché credono di dare una bella svolta al mondo, credono di scegliere di farlo, sì, finché gli viene detto di farlo, allora, seriamente, se non riuscite a vedere che siete controllati, cosa ci vorrà, non avete voce in capitolo su quanto a lungo la indosserete o quando la indosserete, e ora stanno minacciando una seconda ondata di covid, proprio come avevano previsto, da quando in qua i virus sono prevedibili, non riesco ancora a superare il fatto che in una pandemia, così apparentemente rabbiosa, le persone indossano mascherine che proteggono gli altri e non se stessi, non riesco ancora a capirlo, in una pandemia assassina, affidereste la vostra vita agli altri e negareste ogni responsabilità a voi stessi in questo, uh uh, Atena, i terrestri sono un prodotto del loro condizionamento, amore mio, io, dimmi, Atena, perché le persone si aspettano che gli altri le tengano al sicuro in una pandemia così virulenta, perché, Atena, perché gli è stato insegnato ad ascoltare l'autorità, questa è la prima cosa che la tua gente deve disimparare, io, ma ascoltare l'autorità ha sempre tenuto le ruote unte, Atena, sì, ma per chi, io, vero, ci hanno portato dritti al punto in cui alcune persone non possono pensare da sole, a meno che qualcuno non dica loro cosa fare, non possono prendere una decisione, vedevo la mia amica lottare con questo, non poteva decidere cosa mangiare, anche una decisione semplice come nutrirsi da sola era troppo per lei da risolvere in fretta, Atena, e questo è quanto, questo è ciò di cui parla la pubblicità, dirvi cosa dovete fare per rendere più facile la vostra scelta, e il lavaggio del cervello, io, vero, non riesco a credere alle cose nuove a cui mi sono aperta da quando ho smesso di guardare la TV, Atena, ci sono anche fattori di stress coinvolti, se non riescono a trovare risposte, molte persone avranno ansia, non possono convivere con problemi irrisolti e sì, anche lo stato profondo ne approfitta, perché ora vedi, c'è molta ansia nel tuo mondo per i problemi del Covid, lo stato profondo continua ad alimentare la paura nelle masse, tutto quello che devono fare ora è introdurre una soluzione e le persone ci salteranno dentro, io, spero che Trump intervenga prima che esca l'odioso antivirale di Gates, Atena, lo farà, io, volevo diffondere questo messaggio alle persone, per dire loro che quando sei nato in un mondo che non è allineato con lo scopo della tua vita, allora sei già nato in un sistema senza scelta, ogni decisione che prendi, o che viene presa per te nel tuo migliore interesse, spetta ai controllori, non a te, lo scopo della vostra vita è ascendere, allinearvi maggiormente con Dio in ogni successiva vita che vivete, e quando non lo fate, o quando i controllori del vostro pianeta cercano attivamente di impedirvi di fare, ogni decisione che prendete non è una che avete creato per voi stessi, a meno che voi non diventiate consapevoli del vero scopo della vostra vita, e lo realizzate allontanandovi dal sistema di controllo artificiale, l'ascensione sta accadendo ora, che voi ne siate consapevoli o meno, ma c'è una forza opposta che, a quanto ho capito, non è solitamente casuale, e questa forza vi conosce meglio di quanto voi conosciate voi stessi, Atena, la vostra unica opzione è allinearvi con l'anima o allinearvi con i controllori di questo mondo, che, tra l'altro, vengono rimossi dal potere, potete solo ritardare l'inevitabile per un po', sono Atena, una volta ho amato il vostro mondo e ora sono tornata, io, grazie Atena, traduzione Marina